È veramente da molto tempo che non vi parlo di CRO e ovviamente tiffo l'ecosistema che circonda quest'ultima pittorota. A partire da crypto.com, l'exchange, ma anche e soprattutto in questo video voglio subito aggiornarvi con una meme coin che vi avevo. Fatemi conoscere in uno degli ultimi video di qualche settimana fa che ragazzi è andata letteralmente skyrocket. Hi guys, qui è Ryan e il vostro crypto alla lista di fiducia. E in questo video, dato che è moltissimo tempo che non vi porto un aggiornamento su crypto.com e siete in molti che sotto i commenti di ogni video o messaggi in privato, volete un aggiornamento da parte mia per tutto l'ecosistema di crypto.com che nonostante noi non ne abbiamo parlato nelle ultime settimane, ci siamo concentrati su Bitcoin, l'andamento di bassista che stiamo vedendo nelle ultime due settimane su Bitcoin, ma anche il resto dell'outcoin. Ed è per questo che ho deciso di prendermi oggi per andare a informarvi sulle ultime news più importanti che possiamo vedere su crypto.com. Infatti guys, prima di cominciare, contribuite a far spingere questo video dall'algoritmo, iscrivendovi al canale, lasciando un like, ma soprattutto attivare la campanellina perché così siete sempre aggiornati quando escono nuovi video e soprattutto avete delle informazioni essenziali per andare a fare profitti sui mercati. Guys, partiamo subito con la prima Mindstone che ha fatto parlare di CRO di crypto.com negli ultimi tempi. Infatti vediamo come ultimamente crypto.com abbia raggiunto più di 100 milioni di utilizzatori, 100 milioni di utenti che si sono iscritti a crypto.com e che fanno parte dell'ecosistema. Ovviamente non stiamo parlando di 100 milioni di utenti tutti attivi, anche perché probabilmente non ci sono neanche 100 milioni di utenti attivi tutti i giorni in tutto l'ecosistema delle criptovalute, in tutto il comparto cripto, ma soprattutto questa è una cosa molto importante perché contrassegna come crypto.com come uno degli exchange a livello numerico più grande. Infatti sapete bene quanto crypto.com negli ultimi tempi si è focalizzato dal punto di vista legislativo, perché io credo sia una cosa molto importante, dato che stiamo vedendo sempre più la SEC e gli antiregueramentatori mettere i bastoni tra le ruote al mercato delle criptovalute. Infatti notizia delle ultime ore, la SEC ha inviato una lettera di avvertimento a Robinhood, uno degli exchange, in realtà uno dei broker in zona US più importante e più utilizzati e infatti accusa Robinhood dopo il fatto di aver offerto agli utenti statunitensi di operare su delle securities non registrate, ovvero le maggiori altcoin. Crypto.com, andiamo per adesso, sembra sia uno dei pochi exchange, comunque registrati anche in zona US, che non sia stato beccato dalla SEC, che è una cosa molto positiva. E nonostante ciò vediamo come la community di crypto.com si è sempre più cresciuta, infatti siamo arrivati a 100 milioni, una maia, sono molto importante. Vi avevo parlato anche di Coe, ovvero Crow with Knife, che stiamo parlando di una memcoin, la prima memcoin più importante, che avevo riportato sulla Cronos Chain. Infatti Coe ha subito un interesse mediatico per tutti gli appassionati della Cronos Chain molto importante, infatti abbiamo visto come addirittura è arrivata a essere listata su crypto.com, infatti vediamo come abbiano fatto direttamente anche le pubblicità, pubblicizzando quest'ultimo memcoin, infatti hanno dichiarato che c'è la possibilità di andare ad acquistare Coe direttamente con USD, LGBP e più che altre main pfiat currencies. Inoltre vediamo come anche lo stesso crypto.com, a partire da fine aprile, questo è un post del 29 aprile 2024, abbia spinto quest'ultimo memcoin. Memcoin che io, ragazzi, ve ne ho parlato più di un mese fa di questa memcoin, quando praticamente eravamo a questi livelli, ovvero tantissimi 0, 103, e ragazzi abbiamo raggiunto delle performance, dei 15 per, quindi se seguivate i miei video, avevate l'opportunità di fare questi gains, perché io ritenevo come questa memcoin, dato che tra l'altro io ho una piccolissima locazione in questa memcoin, e infatti ho chiuso più o meno a questi livelli, verso i GESI 72, con una performance di quasi un GESI per. Performance molto interessante e molto importante, dato che Getro accoucha una grossissima community, ovviamente stiamo parlando sempre di una memcoin, memcoin che dobbiamo tirare come delle scommesse, però molte delle volte le memcoin raggiungono una capitalizzazione di mercato molto importante, infatti attualmente ci troviamo alla posizione 2.522, con un market cap di circa 64 milioni, io ricordo che è strumentato più o meno in circa ad un milione di capitalizzazione, e abbiamo fatto un 60% sulla capitalizzazione di mercato, che si è riflessa sul prezzo, con delle performance molto, molto importanti. Attualmente leghiamo come quest'ultimo a Ellie Stapa, soltanto su Crypto.com, Uniswap e i maggiori DEX che operano su la Crotos Chain. Secondo me è un potenziale molto importante, ma ripeto, stiamo parlando di una memcoin, e di conseguenza attenzione, perché stiamo parlando di scommesse. Tornando a Crypto.com, vediamo come sta incentivando sempre due persone all'utilizzo e all'escape del Sell Exchange, in modo da attraire nuova clientela, soprattutto persone che si approcciano in primo luogo al mondo delle criptonute. Diciamo che Crypto.com vuole essere un po' di collegamento tra questi due enti, ovvero le persone che non ne sanno niente, che ovviamente non possono andare ad operare su un exchange magari complicato, come per esempio Bybit, perché non hanno idea di che cosa sia un trading futures, ma magari niente lo vogliono sapere, ma vogliono soltanto acquistare, per esempio, Bitcoin, Bikillium, fare un pack, ovvero un kernel di accumulo, nulla, un buon termine, o addirittura anche zero. Ricordo che quest'app molti utenti, se si iscrivono e si trovano bene con Crypto.com, poi probabilmente andranno ad acquistare CRO per avere dei vampaggi sull'exchange, per aderire a diverse promozioni, come per esempio avere la possibilità di vincere 75 dollari in rewards per chi acquista con i Fiat Wallet o partecipa a diverse trading competition. Ma ricordo che è molto importante, anche perché probabilmente, se si trovano bene, utilizzeranno e spenderanno le proprie crypto attraverso anche la carta di credito, che ricordo la carta di credito per i deteneri, per i CRO per avere tutte le funzionalità, i cashback, eccetera, eccetera. Infatti, diciamo, come stia spingendo in tutto il mercato, ma anche nel mercato europeo, dove c'è la possibilità di incharci 10 euro in CRO. Infatti questa è una promo che è attualmente scaduta, però comunque, come potete vedere, invitano un luogo di utenti a riscriversi a Crypto.com. Ma passiamo con i video di come si sta comportando a livello di DeFi e Kronos. Infatti, vediamo che attualmente, purtroppo, non riempra, neanche tale, prima di escire. Ci troviamo a Kronos con 111 protocolli sviluppati sulla Kronos Chain. Al 14esimo posto, siamo in una performance dell'1,85% negli ultimi sette esurmi. Per esempio, però siamo in declassità nell'ultimo mese. Infatti, siamo a o meno 2,85% di TBL. Per chi non sapreste che cosa è in TBL, è il total valuto 8, ovvero l'ammontare di denaro, in questo caso, in dollari, che sono bloccati su tutti i protocolli, in questo video, 111 protocolli, che sono sviluppati sulla Kronos Chain. Attualmente, vediamo come il primo posto per TBL. Abbiamo WS Finance, che decime il 2.000 in mercato, di circa, 261 milioni di dollari su 512, praticamente un 40%. Abbiamo visto un'accelerazione, siamo passati da 140 milioni di dollari di TBL a 512. È stata una buona clascia, ma dobbiamo essere sinceri e franchi, però purtroppo non abbiamo delle grosse performance rispetto magari ad altre blockchain. Infatti, se torniamo indietro, e ne chiamo, per esempio, la blockchain di eBay soltanto negli ultimi mesi ha avuto un incremento del 17,53%. Diciamo che a livello di blockchain sta fappicando molto, ma adesso voglio andare insieme a voi a vedere come si sta comportando CRO, CRO. Andiamo a vedere a livello tecnico come potrebbe comportarsi. Però prima voglio fare un po' una paroramica generale, infatti, delle ultime 24 ore sulla crypto heatmap preghiamo che siamo in correzioni. Infatti, vediamo come attualmente l'intero mercato in ricorrezione stiamo perdendo su Bitcoin un 1,16% sotto i 64 mila dollari. IKIRUM siamo sotto di un 3% quotando un prezzo di 3.078 dollari. In generale abbiamo un mercato in correzione. CRO, CRO sul daily vediamo come sta faticando moltissimo e sta viaggiando in un range che batte tra gli 0,118 fino a un range massimo di 0,16. Stiamo vedendo come attualmente stia su una trend line dinamica. In infatti, diciamo, i NININI faticano ad andare sotto il P0,1155 e soprattutto confermare una quotazione lì sotto del daily di questa zona. attualmente quel che vorrei vedere ma in realtà dobbiamo aspettare un altcoin season per avere una posibilità su CRO a meno che non arrivi in qualche parte. Mi è super stellare però purtroppo anche il prezzo di CRO come tutte le altcoin dato che abbiamo una dominance molto alta su Bitcoin siamo a un 55% di dominance un valore molto molto alto ciò vuol dire che tutti gli investitori sono concentrati nell'investire in Bitcoin piuttosto che in altcoin figuriamoci se andremo a investire in CRO comunque guys attenzione perché una buona buying opportunity potrebbe essere nella zona viola ovvero lì 01178 infatti io probabilmente qualora dovessimo crollare verso questi livelli aprirò un long long soprattutto se arriviamo con un flash stamp qui sotto in modo da andare a liquidare tutta questa zona che ricordavi questa zona qui c'è un sacco di liquidità che deve essere presa prima di andare a fare una direzionalità in questo caso verso di alzo qualora dovessimo arrivare sotto questa zona prendere la liquidità e ritornare e vedere un riassorbimento quindi con un aspect potrei aprire un long almeno fino agli 0.16 che potrebbe essere un buon 35% immaginatevi se apriamo una posizione a leva comunque ricapitolando CRO fino a quando non assistiamo ad una altcoin season purtroppo non possiamo sperare di un rialzo non possiamo sperare di un rialzo predibile per il prezzo di CRO guys siamo arrivati alla fine di questo video fatemi sapere voi se avete indestito in CRO with knife ma soprattutto se sedete indestito in CRO e cosa pensate di CRO da Reine è tutto ci vediamo in un'epito di domani bye